A breve distanza dalla consegna dei premi Fair Play 2020, posticipata a causa della pandemia, questa mattina a Villa del Grumello, il Panatron Club di Como, in occasione della giornata internazionale del Fair Play, ha conferito i riconoscimenti 2021 alla carriera, alla promozione e al gesto. A fare gli onori di casa, davanti ad una sala gremita e alle autorità, il presidente Edoardo Ceriani. Il premio alla carriera, intitolato ad Antonio Spallino, è stato attribuito a Riccardo Piatti, maestro di tennis tra i migliori al mondo, dalla sua accademia e nelle sue scuole. Sono passati grandissimi campioni, l'ultimo dei quali è Yannick Sinner. Il premio alla promozione, Filippo Saladanna, è andato a Luca Rumi, anima della Virtus Cermenate di Pallacanestro, per l'impegno profuso nella promozione dello sport in tutte le sue forme. Ed infine, il premio al gesto, Gabriele Coduri De Cartosio, è stato attribuito al giovane Mattia Martinelli, dodicenne, portiere di calcio nell'Eracle Sport, per il comportamento leale tenuto nel corso della partita di calcio Eracle Figino, squadra 2009, quando il tiro di un avversario, verso la porta da lui difesa, sembrava non fosse entrato in rete, ma lui dichiarava all'arbitro che il gol era regolare. Un gesto applaudito da tutti.